Macchina che completa la curva di fondo e fa l'ingresso addirittura. Pensiero di Mar, Primo di Casei, Petweiss, Dagi, Peter Fonda, Pappas del Pino, Peton SB e più bella grip dall'interno verso l'esterno. Non fa partenza Primo di Casei. Molto più solleciti all'arco Pappas del Pino e Peton SB, l'errore di Primo di Casei. Ed è il primo degli squalificati. Verso in piegata Peton SB comanda avanti a Pappas del Pino, in terza posizione Pensiero di Mar, in quarta Primo di Casei su Peter Fonda. Si entra di fronte, cavalli in fila indiana, all'avanguardia Peton SB, in seconda posizione Pappas del Pino, in terza Pensiero di Mar. Così il 460 in 33, 734 per gli ultimi quattro. All'avanguardia Peton SB, in seconda posizione Pappas del Pino, in terza sempre Pensiero di Mar, muove Peter Fonda che passa in quarta posizione. Così sulla piegata, Peton SB avanti a Pappas del Pino, poi Peter Fonda all'esterno con in scia più bella grip. Si esce dalla curva con Peton SB che continua a fare andatura, avanti a Pappas del Pino che è raggiunta da Peter Fonda, 38 il secondo partiale, 1,04 e 5 per gli 860. Peton SB al comando, secondo in fuori Peter Fonda che scavalca Pappas del Pino, quarta a largo più bella grip, poi Pensiero di Mar e in coda Pritvain Sadaki. Penultima curva, la fronta all'avanguardia Peton SB, seconda all'esterno Peter Fonda. E allora sempre in avanti Peton SB su Peter Fonda e Pappas del Pino all'interno. 32,2 la frazione, 1,36 e 7 per i 1.260 metri, sforza in terza ruota più bella grip che scavalca Peter Fonda, si presenta a lato di Peton SB, quando mancano 600 metri al traguardo. Più bella grip che sta passando su Peton SB, poi Pappas del Pino, mentre scivola in coda Peter Fonda. All'avanguardia più bella grip, secondo in fuori Pappas del Pino, avanti a Peton SB, 29,8 per la frazione. Più bella grip, avanti a Pappas del Pino, completamento della curva, ingresso in dirittura, con più bella grip e Pappas del Pino in testa a testa. Insiste Giuseppe di Fede con Pappas del Pino, e allora il ferroviere Giuseppe di Fede con Pappas del Pino, in perfetto orario sul minario della vittoria, davanti. Più bella grip, poi Pensiero di Mar, Prince Weiss Dagi e Peton SB, vince Pappas del Pino, 8,04, correva senza ferri anteriori, unica variazione di ferratura di questa corsa. Cinque Pappas del Pino, sette più bella grip, uno Pensiero di Mar, il passaggio al traguardo per il premio, al ristorante Il Picchio.